A Youb, oggi al di là di tutto ci volevano i tre punti e insomma con tutto quello che hai corso in queste settimane ci stava anche il gol, no? Sì dai, ce l'abbiamo fatta finalmente a vincere, è stata una partita tosta, quindi l'importante è che abbiamo vinto e continuiamo il nostro cammino insomma. La soddisfazione del primo gol, è un peccato che non ci sia il pubblico o il mercante, però insomma no? Un primo gol in giallo rosso. Sì dai, sono molto contento, lo faccio per tutti, per la società, per i miei compagni e così dai. Adesso ti sei sbloccato, tu e Guccio, bella coppia. Bella coppia sì, siamo molto affiatati quindi pensiamo a farne altri, dai, andare avanti. Ascolta, la settimana prossima purtroppo bisogna dire a questo punto si riposa. Sì, però adesso abbiamo trovato entusiasmo e speriamo di vincerle tutte, noi speriamo di vincerle tutte. Siamo stati un po' sfortunati prima, adesso speriamo che con questa vittoria possiamo continuare così, insomma, dai. Sì, si è visto in campo che insomma indipendentemente dalla classifica qui si gioca per portare a casa sempre tre punti. No, no, noi lottiamo ogni partita per vincere, però sai ci sono anche gli altri, quindi siamo anche, ripeto, stati un po' sfortunati. Quindi adesso cerchiamo di vincere tutte. Ascolta, primo gol in giallo rosso, dedica speciale? Lo dedico ai miei compagni, a tutti, allo staff e basta.